La misura della misericordia, di una casa aperta, non la diamo a noi, la dà a Lui. C'è questa porta nella quale tutti possono entrare. Il padrone è Lui. E chi siamo noi per porre impedimenti al Signore? Tante volte lo facciamo. Quando teniamo un po' a distanza, forse gli ultimi arrivati, e noi stiamo vedendo come oggi la Chiesa sta dilatando i Suoi spazi, i Suoi confini, e laddove noi che siamo di antica tradizione da sempre, è quasi scontato che siamo dei credenti, ci rendiamo conto che questa parola di Gesù non muove più la nostra vita. Siamo diventati ripetitivi, monotoni, e arrivano gli altri, gli ultimi, che portano l'entusiasmo della loro fede, e dovremmo accoglierli. Verranno dall'Oriente e dall'Occidente, dice Gesù, e siederanno a mensa con noi, e perché è Lui che spezza il pane, non noi. È Lui che apre la porta. La chiave ce l'ha soltanto Lui, ed è chiave di amore, di misericordia, di accoglienza. E chi siamo noi per porre imbedimenti alla ricchezza della misericordia e del dono del Signore? Grazie. Grazie. Grazie.